L'argomento della fusione tra i comuni di Atri, Silvi e Pineto torna in discussione da parte del gruppo promotore del progetto, coordinato da Massimo Spezialetti, che nelle ultime due settimane ha tenuto sette incontri con i rappresentanti delle rispettive forze politiche dei territori coinvolti. L'obiettivo dei promotori è quello di creare tramite la fusione un nuovo comune forte, più numeroso ed esteso, capace di far fronte a tutte le sfide economiche che riserve il futuro. Una legge del 2014 ha dato la possibilità a questi comuni di fontersi e acquistare diversi benefici che possono andare da una serie di contributi che vengono dati dallo Stato per organizzare questi nuovi uffici che si andranno a cercare e poi, per esempio, si potrà sfondare un po', andare oltre il bilancio per poter effettuare delle spese che diversamente non si sarebbero potute effettuare. I vantaggi economici e finanziari sono notevoli per i promotori, come pure consistenti sono i fondi, sia statali sia regionali, previsti per portarla a compimento. Sarà un unico sindaco, un unico consiglio comunale, diversi assessori che poi delegati per le varie zone. Il progetto è stato lanciato prima dell'estate coinvolgendo i tre sindaci interessati che si sono detti d'accordo più che sulla fusione vera e propria per creare un'unione dei servizi turistici e degli uffici tramite cui intercettare opportunità e finanziamenti per il territorio, ma senza perdere l'identità di ciascun comune. Creare un ente nuovo, una forte ente, con contiguità sia economica che sociale che di confini, quindi persone che vivono grossomodo gli stessi problemi e hanno le stesse possibilità, potrebbe comportare la creazione di questo ente che ha tutto, avrebbe tutto. Non si perde niente, non è che altri perdano qualcosa nei confronti di Pineto o l'inverso, di Silvi, ma ci sarà soltanto un guadagno perché un nuovo ente più forte provocerà benefici soltanto e solo da guadagnarci per la gente e così speriamo almeno di evitare che i nostri nipoti debbano andare fuori.